La mia vita è nelle mie mani. Se ti dicono che ho più diritti di te, ti mentono. Se ti dicono che l'Islam permette la violenza contro le donne, ti mentono. La tua libertà è l'unica verità. Amore vuol dire condivisione. Amore vuol dire insieme. I tuoi sogni valgono, non rinunciarci. Moschee ni frik te denuncioni. Non rinunciare a te stessa. Tu vali. Sabine il mani l'angica italo, wa bompani wara. Un detti, yemite barabar. Sette picchia matiamo. La violenza. E' una mancanza di vocabolario. Non si tocca neanche con un figlio. Progetto Aisha nasce per contrastare la violenza contro le donne e la loro discriminazione. Attraverso questo progetto vogliamo sensibilizzare al tema e vogliamo promuovere una cultura del rispetto e dell'amore sano. Attraverso questo progetto vogliamo anche scardinare quei reitaggi culturali che svalorizzano la donna e giustificano atti di violenza contro di lei, contro ogni principio dell'islam. Attraverso questo progetto vogliamo sensibilizzare al tema della violenza contro di lei, 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 contro di lei. Attraverso questo progetto vogliamo sensibilizzare al tema della violenza contro di lei, 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 contro di lei e contro di lei. Attraverso questo progetto vogliamo sensibilizzare al tema della violenza contro di lei, contro di lei, contro di lei e contro di lei.